sono margherita di cinque anni vi voglio far vedere come cucino la macedonia vai ecco si prende quattro pezzettini di mela su una ciotola fragole a bagno vai fragole a bagno sul ciotolino va bene facci vedere come funziona poi questo lo mettiamo così prendiamo un pezzettino di mela lo mettiamo qui così schiacciamo e sotto tutti i pezzettini e facciamo così con tutta la frutta con tutta la frutta allora facciamo così margherita adesso ne facciamo un pochino e poi facciamo vedere come è venuta va bene saluta si fa così per le fragole per le fragole si fa così diamo una spintina poi e poi prendiamo questo così zacate bravissima è fatto benissimo margherita abbiamo tagliato tutti i pezzettini tutta la frutta pezzettine e adesso la rovesciamo nel barattolo benissimo dai ok dopo lo finiamo e adesso con che lo dobbiamo condire con lo zucchero e il limone e il limone e la macedonia è pronta saluta a tutti ciao